Ciao ragazzi, oggi vi porto in Valpolicella con un prodotto davvero unico fatto solo appunto in queste zone ed è il ripasso della Valpolicella. In questo caso l'azienda è Giovanni Ederle ed è un Valpolicella ripasso superiore quindi con un grado alcolico superiore alla media. Infatti abbiamo ben 14 gradi e mezzo prima che me lo dimentichi. Dove siamo siamo a San Mattia sulle torricelle, le colline che vanno a circondare proprio Verona. Il ripasso viene fatto questo qui in particolare con 50% di corvina, 30% di corvinone e 20% di rondinella che sono le uve tipiche con cui si fa anche l'amarone e il recioto. Infatti il ripasso è un vino particolare perché perché veniva e viene ancora adesso ripassato sulle minacce dell'amarone o del recioto. Cosa succede? Una volta si faceva un vino molto fresco, beverino, molto giovane, parlo ancora in tempi abbastanza in là in tempi antichi e questo vino era veramente poco strutturato, poco carico di colore, poco alcolico e cosa facevano i produttori? Andavano, facevano due vini principalmente, il recioto con le uve passite per 3-4 mesi mentre subito a settembre, ottobre, veniva prodotto il Valpolicella classico che però appunto era così leggero che poi verso febbraio-marzo quando ormai il recioto aveva finito il suo corso e quindi si ritrovavano con le bucce ancora ricche di zuccheri perché il recioto è un vino passito quindi è comunque dolce. Cosa facevano i produttori? Andavano a prendere questo vino giovane e lo andavano a ripassare, a rimettere per un periodo che adesso da disciplinare va da un paio di giorni fino a due settimane e le bucce ricche di zuccheri andavano ad innescare una seconda fermentazione e quindi il vino che ne usciva era sicuramente più colorato, più alcolico, più strutturato con sentori giovani di frutta rossa, succosa ma anche prendevano le note più terziarie diciamo e più aromatiche, interessanti del recioto. Diciamo che al tempo si faceva proprio per necessità perché magari qualche vino era difettato e invece che buttarlo via si preferiva dargli questa ripassata per rendere migliore i vini un po' di seconda scelta, mentre adesso naturalmente si fa è proprio una tecnica unica per produrre questo vino e quindi ogni produttore poi ha la sua interpretazione c'è chi naturalmente va a ripassare solo con le bucce del recioto, chi solo dell'amarone ovviamente l'apporto di sostanze è diverso, alcuni il 70% del vino per il ripasso lo vinificano subito un'altra parte fa un leggero appassimento proprio per dare questa carica in più. Diciamo che il ripasso è la via di mezzo tra l'amarone, che magari è quello più conosciuto ma non è detto che sia quello più consumato, è il Valpolicella, che invece è proprio il vino d'annata. Il ripasso è quella via di mezzo? Diciamo che è il vino per il sabato e la domenica, il vino per il weekend. Se il Valpolicella normale è da tutti i giorni, l'amarone è solo per le feste speciali, compleanni, natali, pasqua, ecco e diciamo invece che il ripasso è quella via di mezzo che ha anche una facilità di beva maggiore sicuramente di un amarone e anche un utilizzo in cucina più facile, nel senso che anche come abbinamenti, certo ha una determinata struttura però naturalmente possiamo abbinarlo molto più facilmente di un amarone penso sempre alle carni, penso anche da un bel antipasto saporito di salumi e formaggi di media stagionatura a una pasta asciutta ben con un sugo di carne o anche un arrosto o carne anche alla griglia fino ad arrivare al brasato, cioè riesce a coprire bene tutto il pasto e anche devo dire che a mio parere sta molto bene anche con le minestre di legumi quindi con le minestre abbastanza dense dove abbiamo appunto una tendenza dolce che va bene a bilanciarsi con la spallacida di questo vino e comunque ha anche una buona aromaticità quindi questo, ancora qualche parola sull'azienda Giovanni Ederle è il proprietario, un ragazzo giovane, classe 87 quindi nasce da una famiglia sempre in ambito di agricoltori ma lui decide di piantarsi le sue vigne e di fare il proprio vino quando compie 18 anni, quindi un ragazzo giovane a cui piazza sperimentale il regime è biologico ed è anche certificato perché abbiamo qui il simbolo del bio, quindi è anche certificato c'è una cura in vigna moltissimo e anche un giusto rispetto in cantina i terreni in queste zone qua sono calcare e argillosi siamo a 220 metri sul livello del mare e hanno anche queste uve una bella esposizione sud-sud-ovest a direi che possiamo andare ad assaggiarlo è nata, scusatemi, 2018 quindi ha una bella trasparenza, è un rosso rubino di bello, vivido, vivace con un riflesso comunque che dà già sul granato per intenderci, ha una bella trasparenza è un vino snello, agile però che dimostra comunque di avere una buona consistenza anche perché vedendo il grado alcolico ha una certa struttura sicuramente al palato lo percepiamo, sarà un bel palato pieno naso al naso si incontrano perfettamente i sentori fruttati giovani, succosi, ciliegia confettura anche di lampone quindi questa dolcezza e questa acidità che andiamo già a percepire al naso e poi le note dolci dolci intendo spezie intendo chiodi di garofano ma anche liquirizia tanta che va a riprendere la balsamicità ma proprio adesso c'è proprio qualcosa di dolce tipo cannella è un naso fruttato speziato balsamico quindi abbiamo proprio l'incontrarsi del ragazzo giovane con i sentori più maturi e più diciamo anche terziari che molto probabilmente vengono proprio rilasciati dalle bucce oltre ad avere appunto anche sicuramente una struttura maggiore del Valpolicella classico quindi vediamo se è corrispondente è un vino secco con una buona alcolicità una buona corrispondenza anche di delle spezie proprio inizialmente poi esce fuori tutto il comparto fruttato un'ottima acidità una spiccata acidità direi che lo slancia moltissimo e che va a bilanciare il grado alcolico abbastanza percettibile frutta matura e anche il tannino asciuga bene secondo me questo vino qua si può anche aspettare ancora un po' per berlo magari si comprano più bottiglie così una la si stappa subito e le altre si lasciano in cantina anche perché devo dire che ci sono diverse tipologie di ripasso naturalmente ma alcune possono anche essere dimenticate per dieci anni in cantina senza deludere e anzi acquisendo maggior sicuramente maggior cambiare nel tempo ad avere maggior pregio nel senso che magari il tannino si arrotonda un po' la freschezza è davvero spiccata quindi sicuramente anche se lo lasciamo un po' in cantina peggiorare non può sicuro un sorso persistente corrispondente direi principalmente fresco la sapidità non la vado molto a percepire però a percepire però sento tantissima freschezza piacevole il tannino asciuga e ci sono dei rimandi comunque infine balsamici che vanno a richiamare la liquirizia che avevamo percepito al naso bene direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo la prossima volta con chissà qualche vino interessante di sicuro alla prossima e grazie ciao ciao